Eccoci a un nuovo appuntamento con Logic Pro 10 e quest'oggi andiamo a vedere da vicino il Flax Time, un'altra di queste novità di questo software dell'Apple e diciamo che con Flax Time possiamo quasi mandare in pensione il Melodyne perché a questo punto abbiamo già lo stesso software praticamente all'interno di Logic Pro 10. Andiamo a fare una prova semplicissima, prendiamo una voce nella libreria di Logic e prendiamo questo cantato. Importa anche le informazioni sul tempo, eccolo qua, andiamo a sentire. Perfetto, cosa possiamo fare? Lo possiamo anche, aspettate che apriamo il Toolbar, andiamo a aumentare. Duplichiamo la traccia audio in questo modo e a questo punto schiacciamo il bottone Flex, che è questo. E poi andiamo a schiacciare anche questo, il bottone Flex della traccia. Andiamo a scegliere il Flex Pitch, andiamo a selezionare la traccia, questi piccoli mattoni, diciamo così, visualizzati sulla traccia e andiamo a a correggere il Pitch in maniera uniforme. Andiamo a sentire le due tracce, quella normale e quella già processata nel Pitch e sentiamo. Ecco, fatto questo ci basterà fare due click sopra la barra bianca e andiamo a aprire proprio la classica visualizzazione che assomiglia molto al Melodyne in effetti. Andiamo a selezionare le varie note della traccia audio e andiamo a spostarle. Ecco, in questo modo. Quindi avremo qua la traccia originale e qui la traccia che ho spostato di 5 toni. Andiamo a sentire l'effetto. Ecco, possiamo intervenire ancora con il Flex Pitch sulla nostra traccia audio perché possiamo andare a cambiare l'intonazione in maniera più o meno fine, possiamo andare ad aumentare o diminuire il gain delle tracce. In questo modo, avendole tutte selezionate, vado a diminuire tutto il volume della traccia, ma se ad esempio seleziono solo questo, vedete che vado a diminuire soltanto l'audio rispettivo. Posso anche andare a cambiare il vibrato, in questo caso solo di questa nota oppure se seleziono tutto, vado a diminuire il vibrato di tutto il mio pezzettino di audio. Posso anche andare, non lo so, la forbice, a tagliare in questa posizione l'audio e posso anche spostare a questo punto la fine. Questo è brevemente quello che possiamo fare con il Flex Pitch, questa nuova funzione di Logic Pro X. Prima però di salutarvi, voglio farvi vedere un'altra cosa particolarmente interessante, il toolbar di Logic Pro X che è cambiato rispetto a Logic Pro 9. lo andiamo a vedere cliccando sopra proprio il toolbar, o se no lo possiamo anche nascondere in questo modo, quindi direttamente da qua, e andarlo a fare riapparire rascinando in giù questa porzione di schermo. ma la cosa che volevo farvi vedere in maniera molto contento che sia stata messa diciamo all'interno di Logic Pro X è questa funzione. Ecco, andiamo a prendere ancora un pezzo di audio. porto, va bene. A questo punto non mi interessa più il Flex Pitch, ma voglio farvi vedere quest'altra cosa molto interessante che si chiama Strip Silence. Potreste voi non averlo in questo menu, ma basta cliccare il tasto destro e si va a scegliere Customize Toolbar e andiamo a far vedere, a mostrare diciamo quello che vogliamo nel toolbar. In questo caso Strip Silence è una funzione secondo me molto interessante perché va a tagliare le tracce audio dove l'audio non c'è. Ricordo ore e ore in studi di registrazione a tagliare proprio delle parti vocali le parti in cui il cantante non cantava. Ecco, con questa funzione basta cliccare e automaticamente predispone i tagli della traccia. Diciamo anche andare a modificare i tempi e i modi in questo caso possiamo agire in questo modo vedrete che come d'incanto va a tagliare le parti diciamo di silenzio dove l'audio non raggiunge un determinato valore. mi interessava farvi vedere anche questa Strip Silence abbiamo già sforrato il tempo a nostra disposizione diciamo così vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo tutorial su Logic Pro 10 grazie e un saluto a tutti a tutti Grazie a tutti.